Devo dire che i cantanti sono dei miei cittadini, perché io non evito De Moro. Io non ho sentito una volta provato a cantare come lui perché per via di questo riscaldamento io non riuscivo più a cantare, allora ho tentato, io ho provato, io ho provato, non è che io canto come io faccio, io conosco il suo modo di cantare, mi è simpatico De Moro ma non sai neanche cosa è la realtà.